C'è soltanto un aggettivo adeguato per definire queste quattro giornate della 17esima edizione del Festival dell'Economia. Formidabile! E soprattutto ha colpito, mi ha colpito molto, la presenza dei giovani, ma oltre a loro anche delle famiglie, delle persone più anziane. Insomma è stata davvero una festa per tutta la città. Noi come gruppo Sole24ore, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che questo non sarebbe stato il Festival dell'Economia del Sole24ore, ma che sarebbe stato il Festival della città di Trento, dei Trentini, e aggiungerei non solo dei Trentini, ma del popolo interessato a capire dove sta andando il mondo. È successo esattamente così e di questo siamo molto fieri, così come siamo molto fieri, del fatto che durante il Festival è scoppiata la politica dei Centofiori, cioè esponenti dell'Accademia, della politica, ma anche del governo Draghi, dei premi Nobel, ne abbiamo avuti ben sette, e si sono confrontati su posizioni molto diverse tra loro, ma la dialettica è motore del mondo e questo ci ha fatto davvero molto piacere e ha arricchito il Festival in misura davvero significativa.